Pronto, buongiorno. Con chi hai il piacere di parlare? Giovanotto, tu che hai chiamato, scusa? Io ho chiamato Dio. Ebbene, sono io. Vuoi la pace nel mondo? Come fa a saperlo? Io so tutto, Giovanotto, ma per questo devi chiamare al Papa. A voi non potete fare nulla? No, Giovanotto. La pace nel mondo non va a chieste a me. Il Papa non ci è riuscito, seppure l'ha cercata. E tu pretendi che la vuoi da me, la pace nel mondo? Pretendo perché il momento della tua venuta è vicino. Allora io ti rivelo un segreto, ma tu non dirlo a nessuno. D'accordo, rivelatemi questo segreto. Allora io ti rivelo un segreto. Allora io ti rivelo un segreto. Non lo dirò a nessuno a risentirci. Allora io ti rivelo un segreto. Allora io ti rivelo un segreto. Allora io ti rivelo un segreto.